L'appello che faccio con tutto il cuore dicendo che so che abbiamo sofferto, ma ora per favore distanziate i tavoli, evitate assembramenti all'interno degli esercizi commerciali, anche nei luoghi esterni chiusi, soprattutto quando per l'aperitivo, il caffè, i clienti si affollano in questi esercizi, anche perché dopo tanto tempo c'è voglia di farlo, nei ristoranti l'appello sentito che faccio è distanziate il più possibile i locali, so perfettamente che questo è un costo economico, ma noi dobbiamo governare i picchi pandemici o c'è il rischio di un ritorno indietro. Quindi torniamo alla vita, questo è ovvio, ma torniamo alla vita rendendoci conto che non solo il virus non è scomparso, ma con la variante inglese o altre varianti, anche se forse meno gravi, però molto più aggressive dal punto di vista della diffusione del virus. Quindi bene che abbiamo riaperto, riprendiamoci la vita, grazie per chi ha resistito, ma faccio l'appello, ora non scherziamo, è meglio tre tavoli in meno, ma la possibilità di non tornare più a chiudere nei luoghi dove c'è assembramento.